Buone stelle da Radio.Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, martedì 26 ottobre l'appuntamento è con le stelle di Radio.Zero e tutte le ultime novità del giorno e allora partiamo dalla riete. Con Mercurio e Marte opposti è vietato innervosirvi anche se dovessero insorgere piccoli inconvenienti negli spostamenti o nelle prove di studio. Convincetevi senza chiedere conferma agli altri del vostro valore e delle vostre innumerevoli capacità. Toro, a causa di Giove e Saturno in contrasto non sfogate il nervosismo a tavola per non appesantirvi, praticate invece con regolarità uno sport che vi appassiona. E nuovamente Giove a rendere questa fase economicamente instabile e dispersiva, le uscite sono un po' troppo numerose, quasi eccessive. Gemelli, Mercurio alleato vi regalerà le idee al momento giusto con buoni risultati, soprattutto per chi studia oppure opera nel settore della cultura. Con il vostro intuito saprete leggere al di là delle parole ciò che sta cambiando in ambito lavorativo. Cancro, con il sole in trigono alla luna vi accorgerete di essere amati per quello che siete e non per quello che apparite, questo vi infonderà grande fiducia. Marte però d'altra parte vi è avverso, una convivenza non è facile ma sarete disponibili, empatici e supererete così tutto. Leone, grazie a Venere Amica, frequentando ambienti con gente che coltiva i vostri stessi interessi creativi e spirituali vi sentirete più compresi e considerati. Quando lo richiederanno le circostanze siate più malleabili, quando invece sarà necessario irremovibili. Vergine, chi vive in coppia con Venere Nettuno Stili oggi sarà molto esigente, poco generoso, attenti a non incrinare il rapporto però, no a gelosie e suscettibilità. Non sognate vacanze e spostamenti al momento, non è ancora l'ora di intraprendere nuove imprese e avventure per voi. Bilancia, Mercurio nel segno animerà le vostre attività legate al mondo della comunicazione, successi negli studi e nei viaggi per imparare le lingue straniere. Con Marte in congiunzione in più entusiasmo ed energia in questo martedì non vi mancano di certo, cercate però di sfruttarli al meglio. Scorpione, con il sole nel vostro cielo intrigono alla luna in cancro per liberarvi da situazioni limitanti, sarete in grado di muovervi con chiarezza, decisione eppure con efficacia. Se vi verranno poi proposti nuovi ambiti di ricerca professionali, terciversate, i tempi non sono ancora maturi. Sagittario, avrete voglia di mettere radici, di realizzare il desiderio di una vita a due o di rendere il vostro legame già esistente più stabile e duraturo. Marte favorisce vantaggi concreti nell'agire quotidiano in più, sosterrete progetti complessi e impegnativi. Capricorno, sul lavoro Marte mal disposto richiederà impegno e spirito di adattamento, soprattutto a chi si troverà a dover affrontare questioni di non tutto riposo. Con Mercurio di malumore è meglio essere meticolosi in tutto ciò che fate, evitate quindi fastidiose distrazioni. Acquario, vi saranno dimostrati stima e apprezzamento e questo vi permetterà di rallegrarvi e di applicarvi con maggior profitto alle solite incombenze. Approfondendo il dialogo in più riuscirete anche ad alleggerire la tensione che si è un po' creata in questo periodo in famiglia. E chiudiamo infine con i pesci. Per colpa di venere avversaria dal sagittario in amore sarete insofferenti, poco disponibili e incapaci di giudicare gli eventi in modo meno egocentrico. Periodo di grande fermento invece negli affari, dove dovrete però essere molto cauti nel sottoscrivere contratti. Ed è tutto quindi anche per questo martedì dalle nostre stelle di ottobre, appuntamento a domani con tutte le novità. Intanto a tutti auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia Radio Punto Zero